ciao ragazzi e ciao maicon allora come vedi oggi abbiamo più mazzo di carte perché sarò io a questo giro a stupirti lo so non sono mentalista però vedremo qualcosa di un po diverso ok allora ovviamente abbiamo il nostro mazzo di carte che anche se tu pratichi mentalismo ma conosci benissimo le carte con i quadri fiori picche ti farò vedere un qualcosa di secondo me davvero incredibile andiamo a mescolare il mazzo in questo modo però anzi 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 farò in maniera diversa fare in maniera diversa farò fare tutto a te ti chiedo di prendere questo mazzo di carte e di disporre una alla volta finché non fai quattro mazzetti come voglio si 1 2 3 4 anche in ordine spasso come ti pare opla quattro mazzetti non mi sono fatto le unghie e pazienza proverò a darti la libera scelta ok lo sai che in realtà non è mai libera però questo giro credimi che lo sarà mi galba mi galba liberamente dovrei prendere due mazzetti di questi quattro senza robe strane le altre due togli una mano prendi due mazzetti ok questi due mazzetti mi scoglietta l'americana e le mescoli lì stesso sono belle carte nuove sono proprio nuove aspetta ci sono è mentalista ok ok però già che ci siamo abbiamo anche l'altro mescolo anche la faccio anche questo ok faccio vedere tutte mescolate però già che ci siamo perché non le mescoli insieme e qui già non lo so comunque non dico niente ok bene tutto ok bene o male lasciamo il mentalismo ai mentalisti elaborare ti chiedo di fare una cosa davvero molto semplice prendere la prima carta la guardi posso farla vedere in camera adesso io rimango girato tu dovrei fare una cosa dovrei alzare più o meno metà anzi più della metà perché così andiamo davvero a nascondere nel mazzo ok e squadri il tutto ok adesso puoi fare anche qualche taglio se vuoi se vuoi se vuoi posso ok te la lascio te la concedo e proverò con l'amato mentalismo wow ci sono cioè ci sono ci sono ci sono nel voler vedere ci sono nel voler vedere ma ti ho detto fin dall'inizio che io non sono un mentalista sei tu il mentalista come vedi io qua c'è un mazzo di carte no dai in questo mazzo di carte no c'è una previsione vado via cioè ti lascio c'è l'unica carta l'avete scritto l'avete sentito eh io vado via per la prima volta qual era la tua carta è rossa di figura femminile la donna di quale gira tu stessa la donna di quale vai fa male cioè nonostante i miscui che non hai fatto proprio benissimo dobbiamo dirlo eh devo fare una piccola critica ma perché sono emozionato quando mi fanno come questo è vision impossible di any card che saluto e lo saluto anch'io lo conosco è un grande è un grande davvero ha fatto davvero una mina quindi complimenti sì però lascio giù in descrizione se volete affissarlo come vi ho detto prima e se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi a lui a lui ovviamente a chi fa buona magia ragazzi iscrivetevi davvero ok è piaciuto bellissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti